Benvenuti su un nuovissimo video di Call of Duty Mobile Oggi siamo in sto bellissimo gioco E riusciremo a vincere delle Battle Royale Vedremo in questo video Intanto iscrivetevi al canale Lasciate like, attivate la campanellina e scrivete un commento Nuova cosa Il sondaggio che ho fatto Non è ancora valido Però dovete dire delle parti Solo una parte preferita Non tutta la parte preferita del video Non tutto il video Però Scusate Però Vi dico che Intanto Solo i nuovi video sono Come dire Solo i nuovi video sono abbastanza Per Per il Robo Per il Sondaggio Solo i nuovi video sono validi Perché Gli altri video Tipo quelli prima del sondaggio Non sono validi Comunque Iniziamo Non so se da voi si vede Più male di me Nel video Si vedrà Più male di me Non lo so Io credo che si veda bene Perché io si vedo Benissimo Funziona benissimo Il gioco Da me Allora intanto Vedo già una persona Entriamo piano Buongiorno Ucciso Buongiorno Allora In cambio di questo Spergiamo questo Ok Poi Allora 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 Oddio Questo qua è nuovo Non l'ho mai visto io Questo posto io Non l'ho mai visto No raga Io non l'ho mai visto Scrivetemi Se c'era già Anche prima Perché Io Ho mai visto Ok Cosa c'è qua dentro Va bene Una roba bruttissima Però La accettiamo Lo stesso Allora Vediamo questo Come mira Bene Bene Vediamo questo Dai dammelo È uguale È uguale Vabbè dai Usiamo questo Vediamo 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 Allora Non ho mai Allora Abbiamo fatto solo Intanto un'incisione Siamo ancora in 96 Però Secondo me Vinciamo la Battle Battle Royale Speriamo di fare Qualche Headshot Comunque Corriamo Saliamo Per questa casa Cerchiamo un po' di giro Intanto Siamo già in safe Quindi Non ci dobbiamo Preoccupare Oddio È troppo bello Qua Spaccare i vetri È troppo bello Sul gioco Nella realtà Non lo fate mai Perché Sapete che ci sono Di bambini Che guardano I videogiochi Dove li fanno Tipo che Scavalcano le finestre Spaccano il vetro E si buttano giù Ma Questo qua è solo Un videogioco Ragazzi Non lo fate mai Comunque Oggi Saluto XX Albi 2030 Lo chiamo ancora così Però Vabbè A me piace Questo nome Poi Madonna L'avete visto Nelle uccisioni Che c'era una persona Che si chiamava Jennifer Jennifer Io l'ho incontrata Nel video Ho fatto un videolino Poi non ho fatto Il video Come avevo detto Nel video Mi dispiose Mi dispiace Oddio mio Dio mio 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 Ok Allora Invece che andare Con questa macchina Andiamo Dove che mi sparo Ah Buongiorno Ma buongiorno Ti sei divertito? Mentre morivi Ok Via No Aspettami Stupido Oddio Il mio compagno Mi ha scaraventato Via Però Vabbè Vabbò Mi ha scaraventato Oddio Lo posso buttare Nel senso Lo posso Spingere Dall'altro sedile E guidare io Oh madonna È troppo bello Pum 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 Spacchiamo tutta Aia Corriamocene via Allora No Siamo già in safe Qua non c'è nessuno Oddio mio Oddio mio Oddio mio Non mi ricordavo che c'era lui Stupido Stupidone Ma va Aiuto Ti Ti sfracello Oddio mio Comunque ragazzi Comunque ragazzi Dico una cosa Se siete sensibili E non potete vedere il sangue Perché siete sensibili Saltate questo video Che è molto meglio Questo video infatti lo metterò Che non è destinato ai bambini Perché Perché Cioè sapete com'è Che i bambini Non possono vedere Le cose brutte Tipo sangue Tipo anche questo Uuuuh Non ti avvicinare Tipo questo Che vedete Che ha un botto di sangue Ecco Non lo potete vedere Non lo potete vedere Quindi Scusate ragazzi Per la doccia accesa Scusate Scusatemi Ok Ok Oddio mio Oh grazie Oh mi devo curare anch'io Ok Allora ragazzi Madonna Aspettami Madonna Ma perché ora non posso più guidare Che schifo Che schifo Vabbè io sparo In caso che c'è qualcuno Pum 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 Vabbè Sto davanti Madonna Ma non sai guidare Ma non sai guidare Allora Perché sono salito con lui Non sa guidare Aspetta Ci sono loro C'è il nostro compagno Aspetta Ma dai Ma dai Ma dai Scrivete intanto nei commenti Se volete altri video di Call of Duty Io direi di sì Perché è troppo figo E poi vi dico Io farò anche altri video di Stumbleguise Il prossimo video di Stumbleguise Sarà dove shoppo un botto Ma non con i soldi Tipo con la pubblicità Avrai degli spin gratis Poi giocheremo Oh E madonna Ma stai fermo Che lì c'è un nemico Intelligente Di un compagno Cioè ci hai messo Ci hai fatto vedere da tutti Bravo Bravissimo Very good Very good Ma proprio very good Io scendo Ma da Voglio guidare io Voglio guidare io Voglio guidare io Guarda che Sta macchina te la sfracello Ti sfracello la macchina Te la sfracello Te lo dico Ti sfracello la macchina Oddio dobbiamo andare Dobbiamo andare Guarda Per fortuna Le ci sono io Per fortuna Le ci sono io Che Uccido tutti I nemici Salvandoti Perché io non ti avrei salvato Stavolta Ti avrei lasciato lì Ma Cioè Per fortuna Mi ha attaccato a me Per fortuna Guarda te Comunque sono abbastanza bravo In sto gioco Siamo in 47 Rimasti 46 Stavo sbagliando Già 46 rimasti Ok Comunque Devo andare in safe Stupido compagno Madonna Guarda io ti sparerei Aspettami Guido io Guido io Guido io Perché io sono più bravo A guidare Cioè Non moltissimo Però So guidare Domo Vieni Intanto Andiamo in safe Stiamo nella safe Ma perché è sceso Ma dai Il suono Voi non sentite il suono Perché L'ho messo a zero Altrimenti Si sentivo un casino Però Loro lo sentono il suono Oddio mio Madonna Qua ragazzi Non è che Perché non so guidare Che Sapete com'è Sulle Rocce Siamo a farm Quello dove siamo Atterrati No 10 e 53 Ragazzi Riusciremo a fare Solo una partita Perché le partite Sapete che durano Tantissimo Su Call of Duty Mobile Durano un bel po' di tempo Le partite Quindi Quando finirà Sto partita Finirà il video Però ci saranno Molti altri video Dove faccio Call of Duty Anche insieme Ad Andrea Il mio amico Quello che è già stato Nei video con me Farò anche Dei video con lui Su Call of Duty Mobile E intanto Ha tantissimo Come richiesto Ho fatto questo video Ma chi è questo Credo fosse un nemico Perché Vedevo Le lucine rosse Perché Qualche volta Mi confondo Con le lucine rosse Che vuol dire Nemico Qualche volta Mi confondo Ragazzi Comunque Andiamo No Siamo alla fine Della Seifaya Sì però Cioè sti alberi Lo sanno proprio Cosa c'è qua Cosa c'è qua Oddio mio Stai su eh Sto parlando con il Con il mio amico Anche se non mi sente Madonna Bellissimo Bellissimo Caro armato Caro armato Caro armato Caro armato Armato E' l'aiono E' l'aiono E' l'aiono Aspettate Voglio mirare La macchina Dove c'è lui To Troppo ridere E' l'aiono E' l'aiono E' l'aiono E' l'aiono E' l'aiono E' l'aiono Dodo Così ti impari Perché io non ho mai curato una persona Vediamo come si fa Ok Aia 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 Non ho sparato Oi Sali Giuro che lo sparo Gli sparo Gli sparo Ragazzi Io mi vedi Sì Poi troppo ridere To To Scusa Perché non muore To Tomo Perché non muore Madonna 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 Aia No 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 raga No raga Ma scusate, ha abbandonato? Ma ho detto vai avanti, non indietro. Scusami, si è buggato. Si è buggato il carro armato, rega. No. È ancora qua? È ancora qui? Tomi. No, non è qui. Allora, dobbiamo andare indietro. E ora è semmo il carro armato. Ok, finirà. Ai, 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 ai. No, 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 no. No, 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 no. Ok. facciamoci una tavoletta una tavoletta tavoletta madonna ma quanti ci sono qui no regà io non lo posso accettare un altro dove no ragazzi ma qua stiamo ricevendo un voto di ancora quanti persone ci sono qui no ragazzi no 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 qua non ci siamo capiti no 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 siamo anche così badonna 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 buonanotte buonanotte però no 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 niente no no niente no no niente no niente no 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 noNo no niente Ma quante persone mi stanno sparando in questo momento, quante è che ne ho fatte fuori, ne ho fatte fuori un botto e poi dico anche ai miei amici che io le vinco, le batto l'oreal ma non sono così forte E poi l'ho mandato la in questo video, oh si missione completata abbiamo vinto, vi faccio lo screen, esce, ok ragazzi mi dispiace, vabbè siamo a 17 minuti già in una partita però mi sono divertito un botto io Poi scrivete un commentino sotto Comunque ragazzi il video finisce qua, spero che vi sia piaciuto e nulla lasciate un bellissimo like, iscrivetevi nel canale e attivate la campanellina per volere altri video su Call of Duty Mobile Io vi lascio con un bel saluto e ci vediamo ad un prossimo video, ciao ragazzi!